Il nostro obiettivo è quello di far diventare questo infopoint il polo dell'agroalimentare. È una strategia che Regione Liguria ha già avviato anche su altri territori, perché ricordiamo che ad esempio c'è un infopoint a Dandora, un infopoint a Loano, un infopoint a Genova, a Santa Margherita Ligure. Quello che si vuole è proprio avere un luogo, una casa del patrimonio ittico, del patrimonio agricolo e di tutto quello che è poi la nostra ricchezza culturale e no gastronomica. Come sarà gestito questo polo? Qual è il progetto? Il progetto è stato un progetto che il Flaggac e il Mare delle Alpi hanno portato a compimento tramite il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria del territorio, che hanno risposto con entusiasmo e fornendo un elenco di laboratori molto importanti, tematici. Ad esempio, sicuramente quello che farà il padrone di casa sarà il prodotto ittico e quindi avremo dei laboratori sulla salagione di acciughe, su come riconoscere il prodotto ittico, ma avremo laboratori sulla lavanda, sui frantoi, sulla filiera dell'olio, su prodotti anche vitivinicoli del territorio. Noi come Flagg il Mare delle Alpi abbiamo realizzato questa start-up che credo sia molto importante, finanziandola con 50.000 euro per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre. Vuole essere un centro di eccellenza intanto per dare vitalità a questa splendida struttura nel punto più bello, direi, della banchino negliese, del bacino portuale. E poi, per renderla animata, esemplificare quelle che sono le peculiarità non solo della pesca, della sua cultura e del lavoro dei pescatori, ma anche questo binomio con l'entroterra, tant'è vero che in questa operazione vi è anche il Gall delle Valle Imperiesi, e una funzionalità di educazione del consumatore finale, uno stimolo per i pescatori e anche cultura generale per quelli che vogliono avvicinarsi al mondo del mare, dell'agroalimentare e delle nostre eccellenze. Quindi, grande impegno, grande sostegno di organizzazioni di categoria che sono compartecipi e protagoniste e quindi siamo molto soddisfatti.